Dal Vangelo secondo Luca Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca della Vilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto, Preparate la via del Signore, Raddrizzate i Suoi sentieri, Ogni burrone sarà riempito, Ogni monte e ogni colle sarà abbassato, Le vie tortuose diverranno diritte, E quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Parola del Signore Siamo entrati nel tempo di avvento, vuol dire venuta, il tempo dell'attesa, del ritorno del Signore, l'attesa del Natale, l'attesa della visita di Dio nella nostra vita. E ci accompagna quest'anno appunto il Vangelo di Luca, che con questa solenne introduzione piena di nomi altisonanti, Tiberio Cesare, Ponzio Pilato, Erode, come dire, i grandi della terra che pensano di dominare la storia, ecco, invece, come dire, la parola di Dio scese, venne, proprio, usa il verbo di cadde, su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Sembra che la storia la decidano i grandi, i potenti, e invece, come dire, Dio sta portando avanti la storia vera, quella, il vero cambiamento, nel deserto, attraverso la voce, la voce fondamentale dell'avvento, che è quella di Giovanni Battista, una voce che grida nel deserto, riecheggiando il profeta Isaia, e che anche oggi ci invita a fare quello che sempre Giovanni chiede, e i profeti chiedono, preparate le vie del Signore, il Signore viene, preparate la strada, raddrizzate i Suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni monte sarà abbassato. Ognuno di noi è invitato in questo tempo a guardarsi dentro, e a dire, quale strada devo raddrizzare nella mia vita, quale burrone devo riempire, quale monte devo abbassare, tradizionalmente i padri dicono, i monti dell'orgoglio, che devono diventare umiltà, i burroni delle omissioni, della pigrizia, dell'ignavia, dell'indifferenza, del grigiore, che vanno riempiti con l'entusiasmo, con l'impegno, con il servizio, con il perdono. Ecco, le vie tortuose diventeranno diritte, prepariamo la via nel cuore al Signore, ascoltiamo la voce di Giovanni, perché il Signore porta avanti la sua storia, anche attraverso uomini e donne, poveri e piccoli come noi, con i loro limiti, ma che se fanno un po' di deserto nel loro cuore, un po' di silenzio, ma che se si impegnano a preparare il cuore, e le vie al Signore che viene, diventano anche loro, protagonisti di una storia che si fa salvezza, che si riempie di senso, che diventa luce e bellezza, magari non andranno su Instagram, o su Facebook, o sui giornali, ma saranno molto presenti nel cuore di Dio. Buon cammino di avvento, così.